Un mezzo pesante durante il cambio di corsia per l'inizio del cantiere nel tratto di Città di Castello ha travolto la barriera del New Jersey bloccandosi al centro della E45. Per fortuna nessun altro veicolo è stato coinvolto e per il conducente del tir solo lievi ferite. Traffico in tilte e lunghe code si sono formate nella mattinata odierna dalle 7.30 circa tra gli svincoli di Città di Castello e direzione nord a seguito di questo incidente. interventi di Polizia Stradale e ANAS che hanno gestito la circolazione alternata per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo.